Ah che bello, amici avete sconfitto il male, siete contenti? Una cosa sola, lo banno e poi lo segnalo o lo segnalo e basta? Tutte e due, tutte e due Lo banno e lo segnalo Sono d'accordo, beh, intanto allora faccio, ok, lo banno e poi faccio e poi vado a mangiare Va bene Buonasera a tutti in live, buonasera, buonasera Salve, salve, volete ridere? Salve Allora, adesso abbiamo fatto dei piccoli cambiamenti Intanto, benvenuti ai tre nuovi mod Ma vabbè, intanto, scusa, non è che possiamo andare qua a cazzaggiare Le vuoi elencare tu, Moro? Mori Sarts Eh, poi Usa Fungo Bravo E poi Jules Quelli che ho visti Che non c'era Non c'è ancora almeno, non l'ho letta C'è tu che c'è Jules Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'è la faccia da pirla Aspetta che c'è il signor Sono finto di essere ricco, grazie a Twitch Prime Grazie mille, grazie mille E basta Le hai detti tre, ne hai detti, basta E un'altra novità è che voi dovete mettere per forza il follow a questo canale Per poter scrivere Non la sub, il follow Che è il cuoricino Dopo un certo periodo di tempo Le persone che hanno followato Verranno controllate E potranno scrivere E infatti il signor Figlio di puttana Ha cercato di followare più e più volte Però l'abbiamo già bannato più e più volte Coglione E noi abbiamo risolto questo problema Ma tu te l'immagini di questo sfigato che passa mezz'ora a farsi gli account Se ne fatti uno, due, tre, quattro, cinque E me ne hanno una vita Un canale era il suo personale vero E nella descrizione c'era scritto Purtroppo ho una vita difficile perché sono grasso Ho i brufoli dentro il culo Ho il pene corto E le donne Questa è casa mia Entra Perché io non piaccio all'ora Vabbè Taglio corto perché devo ringraziare Dark Angel E Garga Grazie mille entrambi Gargalix Che Garga fa schifo Dark Angel One invece Questa è casa mia Mi raccomando anche a Scamix Che c'è? Tu, The Dreams Devo registrarmi qualcosa Cos'è presente il mio personaggio? No, non è niente Bisogna semplicemente fare The Dreams Non devi fare niente Dove costruire l'audio però Che se no muoio Questa è casa mia Entra Un gatto pitulante si è subbato Va bene La prendo bene Noi ha followato Non era followato Fidatevi che la cosa succedere Non è una bella cosa Ve lo dico per esperienza personale Eh ma infatti Succede Succede Quindi tranquilli Se non potete scrivere Mettete il follow Che tanto non vi costa un cazzo Verrete controllati Verrete schedati E dopodiché potrete scrivere Senza pagare niente Quindi non c'è più bisogno Della sub Però tanto adesso Abbiamo anche mille moderatori E quindi Tu battevi a me allora Per favore Scarlett Johansson Qualità grafica ho messo Fai pompini Io? Anch'io Ho detto Scarlett Johansson Sei Scarlett Johansson? Magari Il capo moderatore Naturalmente sarà sempre E per sempre Gabriel Che è il più bello di tutti Madonna Il signor moderator Gatto l'ho scaricato Brava Brava Grazie Stavo bevendo Buonasera Buonasera Allora le novità Penso siano finite qui Nuovi mod L'obbligo di Mettere la follow Se volete farvi la sub È meglio Che con 20 euro l'anno Twitch vi regala Cioè vi regala Twitch È casa del gatto Vi regala per dire Con 20 euro l'anno Amazon Prime Vi manda le robe Il giorno dopo Gratis A meno che non sia sabato Questa è casa mia Cioè ma il giorno dopo Rispetto a quando dovrebbero arrivare No Grazie mille Prio Eh no Sì beh Naturalmente Non la domenica Perché la domenica Non si lavora Però lunedì arrivano Sono più uguali degli altri Dice Gatti Esatto Dopodiché Amazon Prime Adesso c'è anche i video Quindi Amazon Prime Video Che è una specie di Netflix Un po' più piccolino Che anche lì c'è qualcosa Di ficcato E anche la Noiteus E dopodiché E dopodiché La sub Gratuita Mese per mese Con Twitch Prime A qualcuno Che voi seguite Giornalmente All'interno di questo Bellissimo sito E poi Regala i giochi Sono belli i giochi Vi piacciono i giochi Altrimenti non sareste qui Avreste una vita triste Se guardaste Twitch Senza apprezzare i giochi Videogiochi Ve li regalano Quindi 20 euro l'anno Adesso se non li spendete Almeno tutti È colpa di Liezer E picchiamo lui A fine anno Va bene Tanto manca poco Ci vediamo lì Però mi dà 200 euro a testa All'anno No E allora qua Va bene E niente insomma The Dreams Questa sera Mi fissa Stasera The Dreams E possiamo fare anche Una piccola Digressione Su Viscera Nel caso Non so Chi l'ha mai testato Perché Chi ce l'ha installato Viscera Vabbè Perché Perché non so Ci ho pensato dopo Non so se questo gioco Durerà così tanto Beh Un'ora credo Sì Dici Non lo so Stanchiamo dopo un'ora C'è qualcosa che non va Eh Non è una cosa che io do Per scontata Però voi siete fichi Allora facciamo così Facciamo cosa Posto Le novità Le ho dette Tanto comunque c'è scritto anche Nelle regole Della chat Quindi insomma Fate il follow Grazie per il follow Tutto è gratis Bravo Hai visto Pollo Crea una lobby Mettiamolo anche noi Nella descrizione Che c'è la Questo gioco Ah Sì Mi ricordo Sei quello biondo Che c'è la pace da pirla Dovremmo essere in cinque Grazie mille Becco Ciao Corvo E no Senza Corvo Siamo in quattro Allora Il look ce l'ha Non ce l'ha Non ce l'ha Non ce l'ha Luca non mi sembrava Ce l'ha No no Non ce l'ha Ok Quindi siamo io Ah Sì mi ricordo Stai quello che c'è la pace da pirla Cinque allora Vabbè Sono bronzino Minore di tre Gatto ti sono arrivato Vabbè Io non è di grazie mille Ok Per i tre mesi Cosa c'è Cosa c'hai Ah le due sub Pensavo non l'avessero Io creo una partita Quindi vi dovete Vi dovete sbrigare Ok Adesso vi dico il nome Non puoi creare la Ma devo Nascondere la La cosa Arrivo subito Bonrenix Allora Non puoi vedere il gioco Ma che palle Liezar dai La La Nome lobby Liezar E la password E culetto Eh Se però la dici Eh sbrigati ad entrare Ehm Eccola Voi Non entrate Eccola Vabbè che tanto posso Bannare le persone che entrano Quindi il problema Non sussiste Sai che non capisco Come entrare in una lobby Gioca Ci sono tutti i server Non so se Ma c'è Scusate un attimo Ma gli scelto Questa è catania Il server giunto E' interato Ho visto Europa Non era? Puletto alla password Comunque Morenix che dice Ciao che scherzavo Buonasera Ieri ho mangiato con fiorizza Due cinghiali Ma tanto pagava il capo Va bene Spero che possiate Una bella serata E tanti auguroni Viva pezzali natalizie Grazie mille E grazie mille A HULTAIN88 Che si è subbato Non entra no? Entri Roby? Non entra la Roby Non entra Perché è stato Sto stoppito? Per un blocco maiusco C'hai? No Prima era una normale Puletto Puletto Dai pronti Datevi tutti l'ok Abbiamo E ma forse non puoi stare Tu gatto eh No Durante la live Mi sa di no Dici che è meglio Se osta qualcun altro È vero il nome Puoi stare la Roby? Roby osta tu Abbandoniamo tutti Sì Roby fai crea Una nuova partita In alto a destra Ok Abbandona Sì Crea una nuova partita Ah no Forse ho messo Che ho messo US West No Ah è sbagliato E West Rifaccio Rifaccio Eh allora fa la Tuga Ok il ping è calato Incredibilmente sì Rifate rifate Password è la stessa Nome lo stesso Infatti mi pareva un po' strano Vedo Cazzo Eccoci qua Eccoci qua Mettete tutti pronto Ecco devo entrare Pronto Io voglio scegliere il personaggio Spesso Dove andiamo? Dove andiamo di bello? Il personaggio Ah ecco Ah giusto Ah giusto Che lo devo cambiare anch'io Io voglio mettere questo qui Il porno divo Voglio mettere Ma come si muove il primo Scusami Ma tutti si muovono in modo strano Io prendo quello con gli occhiali Io prendo la signorina inquietante Mercoledì si chiama Lei giustamente Sono i food Dai siete pronti tutti? No Io voglio quello lunghissimo Quello lunghissimo Buono Iniziamo la partita Ma come si Cos'è sto gioco Non lo so Nasconditi Fai post Robo e richiesto Va bene Grazie Manu Per aver fatto il riassunto Un letto veloce Prima Autoplay Sto sentendo Robby Si basa di scartare Ah mi sa che non si vede in live Allora dai che ho avuto Scusami Scusami Ah no Si vede Roba gli umani E tu Deza sei un fantasma Noi ci dobbiamo nascondere Però io spero che si veda Robby andiamo Robby Ah no aspetta Mi sa che vedono solo Non uccidermi Deza Ma come si apprende po' La madonna Un gatto petulante Va bene Che dice Signor Moro Non si preoccupi Appena arrivano i big money E' natale Mi subo pure da voi Ah ah Questi strozzi Ma cos'è carino Non ho capito cosa Non di consumare Aspettate Facciamo così Cos'è che ha detto Che appena gli arrivano i soldi Si subo anche da voi Oh grazie Moro Moro Si si arrivo Gabriel Dovrei aver risolto Spero di aver risolto Ma che rumori però Robby si dobbiamo nascondere Che se no arriva il fantasmone Dove ci nascondiamo? Eh non lo so Che paura Mi sa che Moro si è cagato addosso E adesso io cosa sono? Ma io lo sto vedendo Guardalo lì dove è? Ma troppo scuro però Ah sei un fantasma Non si vede E allora sapete cosa vi dico? Che faccio la cattura a schermo Come al solito Che si risolve sempre così Ok E che sta camminando sui tubi Cos'è la mannequin? È un'abilità E champ Un umano nelle vicinanze? Sei gatto? Se tu camminare ho paura Ah ok Sì Merda 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 E chi è quello? Uff Ah però non abbiamo tanto tempo però per trovarlo Eh fanculo eh Se no è up Tu sono un dissenatore Perché quanto buio però sto gioco Non vedo niente La puttana Guardalo lì Ma te sei un coglione Mi ha ucciso Eh sì che mi hai ucciso Anche nella vita vera Io devo stare nascosta È lì Un umano nelle vicinanze mi dice Puttana Ne manca uno In pratica il gioco Il gioco è È un nascondino però con il mostro È una specificità Ci sono diverse modalità E adesso le proveremo un po' Eh ma voi vedete Da fantasma si vede meglio Da fantasma si vede da Dio si vede Ah non so ma che si vede buio? Eh non lo sai Eh non si vede proprio Ah ciao Moro Ciao Siamo in Hazgul noi Eh sì Ma aspetta aspetta Prova di rinclinarti da me Vuole vedere come si vede Dove sei? Forse posso uccidere solo io? Sì Ma non la siamo Però dov'è la Robi? Lei si è nascosta giustamente Hai mancato l'età se voglio Devi trovarla Tutto qua voglio morire qua da sola Vedo un pallino qua Ma io pensavo fossi tu il pallino qua Mi sa che è qui sotto Mi manano nelle vicinanze Come si aprono le porte? E' qua il mouse E' qua il mouse E' qua ma il scia E' qua E' l'ho trovata Uccidere E' qui le azore è qui No devi venire tu Devi venire tu Ah no l'ha uccisa Moro Ma l'ha uccisa di merda Ok Olli Paura Come mi hai fatto trovare? Eh Eh hanno vinto i fantasmi Ma lo puoi vedere? Ma scusami Ho vinto Ho vinto io dopo che ho perso Lo scopo del gioco l'abbiamo detto E' nascondersi dal fantasma E' che pane Non sono neancora io il fantasma Abbiamo dei poteri eh Uno è la R che è champ de E non so De fighe De fighe Ah possono vedere le telecamere Perché? Entra No col mouse Si col tasto destro per vedere le telecamere Grazie mille giù Jaws Hunt 95s E si può usare la mannequin Che immagino sia Ah si è un film Per bloccare Lascia giù i manichini Ah lascia giù i manichini Non blocca? No lascia giù i tuoi copie Ok e la R? L'hai provata? Non l'ho capito Va beh la provo Fa una bolla Merda lo sento uscire Ah una bolla per renderti invisibile forse Ok Sì tu Roby Sei fantasmosa? Si si Pronta Oh wow Quanto buio però E vabbè ci sta il gioco E' horror Ma poi quando ti prendo Ah ho capito Io me ne sto qua Lo sposto Oh merda Ah che paura Ma siete tutti tipo i figoni? Michael Jackson di merda Cosa? Eh sei Michael Jackson Trasformato in lupo Eh si Porca troia Guardalo guardalo Fa in culo la merda Guarda Ma è buon Natale Insomma Nascondito con il non morto Ma sei tu o che cazzo? Eh Roby Guardi sopra di lì ce n'è Dove? Di qua te lo dico io Roby vieni qui Dove sei? Cosa è qui? E' un umano nelle vicinanze Come cazzo è? No Bastardo Vi siete caccati? Pure io Sento dei passi Vaffanculo Ah ci si può anche Abbassare col control Cazzo E' la prima cosa Con questo Natale Halloween a ottobre Ma non mi hai visto? Ciao Cazzo non mi hai visto No Ma è un'altra cosa Ah eh vedi vedi Che ucciso qua Manu Dai che fa Emanu Corri L'ho ucciso Ma cosa non è Li devi uccidere tutti Roby Li devi uccidere tutti Che paura era questa Dio è rimasto Moro Moro Tagliateli la testa Merda abbiamo usato la vita Ma dov'è? E' in mezzo la mappa Eccolo lì Eccolo lì Figlialo Eccolo No hanno usato la copia Strono Ma ti blocca Dai che manca No dai Non posso E' ha vinto Bastardo Tronzi Tronzi Ho vinto No Ho vinto 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 Io ho vinto Bravo 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 Oh sono ancora il fantiesimo Allora io No io no Ma che pane Ma io voglio Ma un'altra modalità non c'è Un'altra modalità non c'è Un'altra modalità non c'è Finiamo Finiamo Questa un po' Penso sia Around You're the best Around Piripiri 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 No Ferma Ferma qua No qua ci trovano No no Wow Lo sei usato Questa è casa mia Entra Ma il cazzo si spegne la torcia Aiuto F Hector grazie mille Non preme l'R E qua Ma c'è la torcia Io non lo sapevo Qu pod Ora si sta cacando Mi sa No Non si vede quindi la torcia Mi oddiamo cos'è il mostro E' una zucca E' una zucca E' Jack L'altro chi è che è il mostro? E' Lizard No raga sono caduta fuori dalla mappa Come? Ho visto cadere Mi sei passata attraverso Come cazzo è possibile? Qui ne abbiamo vinto noi Forza E no sono rispondata non so dove Merda Si va a comandare adesso Ma Arcangelo cosa c'è di difficile Del capire cosa bisogna fare in questo gioco Uno cerca e gli altri si nascondono E' nascondino Porca troia cosa c'è di difficile Posso utilizzare qui da qualche parte Come si pensano le moti con dei follow what Non ci sono le moti con dei follow what Ci sono le moti con dei sub Ti devi subare Ma Karim ha iniziato a giocare a qualcosa Sto deficiente Minchio nero Vedi? Lui ha follow what Aiuto Aiuto Ah l'hai trovato Ok Ma perché sei piccolissimo tu? Perché è un bambino È robottino È robottino Ma subito mi prendevo La puttana La puttana Vedi qua Puttana puttana Dove siamo arrivati Dove sta facendo Luce Gatto Ah era il manichino Bastardo Come si lascia il manichino Aia blu blu In la bolla Dietro chi trova? Verda verda Allora Revati Verda L'ha perso Ah che paura Ti aiuto È stardo Bastardo 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 Si prende No l'ha preso L'ho preso No no Ho vinto No Ma non l'ho preso Ciao amici Ciao Ti mangio Ti mangio Ciao Qui Mozzo È stata Lucia Ho vinto Ho vinto Cambia modalità Ah no Morti No Non ho vinto un ca Ah no Modalità No non ho vinto niente Perché sono all'inizio Allora modalità Questo era sick and rip Questo è bounty Cos'è bounty Vediamo un po' Bounty è la caccia Non è la caccia Faccia tutti gli umani Prima che riescano a fuggire Sei sempre invisibile Tranne quando falci Evoca le banshee Affinché sorvegliano l'area Le banshee gridano Va bene Cosa no? Dai vai Gli umani raccogliono 10 orologi da tasca Per aprire il portale di fuga Entra nel portale Prima dello scadere nel tempo Ah ok Dead by daylight Per esempio Praticamente Esattamente Lo smartphone è in grado Di rilevare il fantasma Sotto forma di nebbia rossa Va bene Vai Almeno questo qualcosa Di un po' più Eh Beh Roby 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 Io sono Non sei ready Beh Beh Allora Schifo lui Pronto Una volta Non è vero Roby Sto chiacchiando No no Clicca una volta Anche se non si nomina subito Non accetti più messaggi No i messaggi adesso sono completamente disabilitati Mi dispiace ragazzi ma Consiglio anche a voi Ci sono altri canali per contattarsi Esatto Quindi sono umano Troviamo dieci amuleti Se un uomo trova dieci Orologi Dai Ma manca la Roby Manca Ah perché è lei Marco schifo Ma cosa dobbiamo fare qua? Trovare gli orologi Il fantasma è stato liberato Ma lo smartphone è quello che ci c'è fuori con il tasto destro? No quello è la telecamera E lo smartphone? E si deve settare secondo me Perché prima ho visto le opzioni Era setup Allo sbarco? A vedere la Roby Ah Perfetto Si sciimo Ho tornato un medaglione Ma ne ho preso Non riesco più a correre io Come mai? Sei affaticato Ma come si vedono i medaglioni? Come sono fatti questi medaglioni? Ho una domanda per voi Ah ah La puttana Ah ecco Non è morto Che abilità è il bambino? Eh non lo so Non sono mai stato mostro mai Io Che palle Ma che sono adesso? Una telecamera o devo aiutarti? Ma tu non mi vedevi gatto? Sei invisibile Roby Ho capito Dovevano rivelarti i smartphone Dovevano rivelarmi Ma non ho lo smartphone Non so come si usa Mi sa che lo smartphone comunque Lo smartphone è quello che poi viola le telecamere di sicurezza ragazzi E quindi il tasto destro Il tasto destro si E infatti è la batteria che cala La puttana Ma io non trovo nessuno di questi orologi Raga sono dentro delle scatole Non ho buggata Bordo 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 Ma come fai? Bordo Ma facciamo sapere quanti ne mancano di cose In alto 5 su 10 5 su 10 Ah ok E per me che non sanno Che ho mai visto uno Meglio per noi Non ho così a tutti Meglio per noi Ti ho ucciso Ti ho ucciso Meno Chi è che ucciso? Non hai ucciso meglio Hai ucciso Manu Io sono vicino a niente Non posso fare nulla Come se è vicino a me Non ti vedo con lo smartphone Ma aspetta Sei vicino a me? Sì Non ti vedo con lo smartphone Quindi non è questo A meno che non possiamo vedere Manu Era due giorni fa La live only sub comunque E comunque in teoria adesso Non ci sono più Comunque non funziona Lo problema Eh ma la dashboard E qui la guarda Eh no Emozioni Io Smartphone Dov'è? Smartphone È R mouse Ma sì ma È chiaro che se quello Magari non l'hai vista Ma non vedo Non vedo Manu Dice che qua diciamo com'è No La roba devi vedere Allora io sono morto Sono bloccato in una scatola Non posso muovermi Mi si è bugata la mappa Ma se questi abbassi Succede niente Sono fatto un salto Perché vi ho visto E sono caduta dentro una scatola Non posso promuovermi Contro una scatola Dove Va bene Però ho gli altri 5 Lo cacchio E quindi si perde Perché non si trova Io non ne ho mai visto uno Non si vedono Sono dei cosi brillanti Sì sono cose Tu lo vedete Mark Aspetta ho trovato qualcosa Ah ok Ve l'ho letto adesso Ok che magari la roba sta mettendo Non è vero Ho trovato un altro medaglione Ma perché li ritrovate tutti Ne mancano 3 Ne manca Ciao Moro Oh cazzo Ma c'è un easter egg di Peck Un easter egg Un easter egg Sento il ticchettio Sento Anche io lo sento Aspetta Left mouse mi dice qui Ah l'ho preso Dietro la porta Ma come? E non si può aprire Ah però si sente il ticchettio Quindi ok Non c'è più niente qui Mi tocca stare all'orecchio Per il ticchettio Stare all'orecchio All'orecchio Vieni qui? Moro? Eh? Vieni con me Dove sei? Nell'ascensore Non ti ho perso Vabbè Lo vado su da solo Ciao Alla meno li prendo Tu puoi giù lì E con un altro Non manca l'ultimo Non ancora il vise Io lo so dove Com'è? È diccio Lo sento È più da me Ok vai Che trovo Io sento una radiolina Il portale aperto Dov'è il portale? Dov'è il portale? C'era in mezzo Mi è scomparso Sono in mezzo Ma forse ce ne sono più di dieci Pabbè Sì Io vado un video io Non c'è Dov'è sto il portale? Dov'è il portale? Guarda che lampeggia Lampeggia è quando sei nei pressi Ah eccolo Dove lo vedete? Eh subito al cellulare Lo sto usando? Non vedo un cato È una cosa gigante La gatto Di là ah eccolo qui, vabbè cazzo eh no, aspetta che non vedo una madonna ma come gli sai arrivare un abbero? io sono dentro il portale hai vinto Moro? buona da secondi eh vabbè adesso ce la si fa, ce la si fa tanto ci si è bugato il fantasma, cazzo c'è noi ah vabbè, eccola Jules ciao Jules colorati di rosso, arrivo arrivo ho portalato ma come ce la fa? abbiamo vinto quindi? human wins ho detto meglio la Roby ma? l'ho visto sai? eh si un'altra modalità? ma no, riproviamo questa in un altro po' era bella? no vabbè, vediamo cosa c'è eh no, vediamo rip and bounty è parlato in gioco io ti sto sentendo, esatto eh cosa? hai lasciato la vocale attiva Moro ma come si fa? ti rompo Moro vedo come si disattiva aspetta non c'ho le opzioni aspetta un attimo che abbandono ma è uguale rip and bounty è uguale solo che c'è la descrizione in inglese ad vocale comandi ad vocale c vabbè dai, refound fantasmi spiriti energia totale raddoppiata sensi potenziati non costa energia può saltare il doppio dell'altezza non raccomandato per giocatori principianti va bene redemption cos'è? ok adesso non parlo più adesso invece parlo pronti? siamo pronti aspetta fammi scegliere il prossimo giugno ma cosa? a me sta ancora caricando come? ho sbagliato è ancora la schamata di caricamento perché sei nella lobby da almeno 6 ore no, aspetta che rientro alla playhouse io sono la ficca adesso però non metto pronto mi aspettiamo l'editor sono un casino oggi di leditor è una faccia ambigua moro ma perchè sei la bionda? perchè sono la figa di turno quella che mora subito va bene mi sembra strano che nessuno conosca deadreal è un gioco abbastanza power e conosciuto e famoso non mi sembra beh figa ok siete procto? no manca 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 lia eh eh si sta ancora connettendo ma io lo vedo già dentro si ma non è chiaramente ok vedo che c'è qualcuno che sta scrivendo su tss da noi ma io non posso leggere perchè altrimenti vedano lui lui ha scritto che cazzo per cagare ha detto che questo gioco ha ha partecipato alla produzione sitaners ah vedi in effetti io mi cago sotto in effetti l'ho visto solo da lui sono i fantasmi cosa succede? io sono il fantasma anche io sono il fantasma anche io sono il fantasma tutti i fantasmi? qui scelgo la vecchia con le tette lunghe vorrei che a misere lo sapevo ma non l'ho fatto a tempo no no che ho preso? dai quindi cosa bisogna fare? io non so chi sono un umano nelle vicinanze ma come umano? ma quindi sono bot? boh c'è qualcuno che mi può dire che cosa sono? tu? voglio leggere un siamo tutti quanti hanno i fantasmi dobbiamo andare qui nel vaso cosa c'è questo coso? un amuleto ok Manu quindi è un umano adesso ah ma dobbiamo tornare umani quindi? quindi adesso uccidiamo Manu cosa sono io piccolino qua? chi sei? eh sei un macellaio ah vedi il contrario guarda a me gatto come sono secco ma questo qui è Manu me lo magno? eh si no 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 io cosa sono? e quindi? è diventato un cadavere ambulante è un cadavere che si sposta ma è sempre umano però Manu è sempre umano ah sono diventato umano eh io ti mangio però mi spavola qua scusa cosa succede? cosa è successo? era un fantasma a fasullo ma che bellino questo qui bastardo aglio che dolore allora sto pallone si modalità un po' dalla sega questa eh è abbastanza dove siamo andiamo aspetta al fine proviamo finiamo poi cambiamo eh no diventa più difficile pian piano che va avanti per i mostri perchè pian piano calano Moro che paura Moro cosa c'è? sei più terribile dai baciami no ma qui c'è Moro e se anziché ammazzare gli umani dove sei finito? l'hai visto adesso son qui e se anziché ammazzare gli umani facessimo un po' di eh? dai un piccanic dai come fai a diventare invisibile? col destro? come r ma da mai io non ce li ho eh si guarda non me li mette r l'altro cos'è? r solo r abbiamo ma non to... ripremi civa la e ti sento ingame se no c'hai ragione scusa perchè non dovrei andare in giro così allora? ahah che è quello là sopra? non è tanto horror è fanculo io mi cago sotto uguale ah eccoli tock tock alla fine non posso passare per figura ma io so che c'è qualcuno dentro questo baule ma se non avete altri vasi per diventare umani vasi? no non c'hai tu moro qua ti segnalo questo no come si ha? però c'è un grosso battuto ma è dentro qui te lo giuro non sai chi è qui dentro? me lo segna lì quando mi allontano eh? e qui dietro c'è Manu morto c'è Manu morto? guardalo guarda lì eh ma cosa si fa con Manu morto scusa? se lo dobbiamo picchiare? ma è morto strascina tutto perchè stavi inclinandoti? guardalo qui morto ah 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 hai palle eh me lo son magnato adesso quindi? noyah noy Robby? ahahah eh 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 io non ho capito cosa dobbiamo fare bello questo gioco dai è ma... è bugato Manu si è rotto Manu, Broby diciamo per dire di trovare me dovete trovare eh ho capito dove ti vengo a trovare dove cazzo si va? che mi va in giro così fai lo screen vuoi vedermi vai fallo no no guarda a vedere cos'era aspetta mi segna qualcosa lì una fredile speranza mi segna lì ma ci sono dei mod si eccolo che ora ma è sempre Manu morto che trovo io no mi sa che la Nobi va a peccato che paura io vedo solo un battito di Manu anch'io ma porca ho sentito della morte qui quindi e adesso la roba è umana e io sono diventato la fantasia e come è successo alla fine probabilmente alla fine del timer chi è umano vince bastardo quindi io vincolo era in piedi su un tubo e si ero fermo là è il taboro non avrei mai la mia preda è andato ma segui me dovrei mai la mia preda ma segui me taci è mio è mio levati cucù tu fè eccolo nooo vinto qua ah merda ti è succato succato tutti succato tutti ah no ma sono sempre io il mostro eh no non l'ho capito a gnocchi ha esponuto la nuova chiave ma non l'ho capito ma guarda che è questo qui morto è sempre Manu morto e quindi ha vincerezza dai la sto prendendo io ah perché sono è rimasto più umano io tra le trenta manu 25 secondi bah che schifo vabbè redemption vaffa il culo hunted aspetta che sono ancora nel caricamento io tornerai a quello degli orologi sono tornato è un gioco travis anche scaricato anche scaricato dai fai tanto io devo uscire di entrare perché mi si è bloccato il caricamento come a me mi serve probabilmente devo ancora installare le directics però eh perché no è ben dito subito magico ma anche quell'altro mi scusi la disturbo vuole giocare la deadria non l'ho scaricato neanche e poi ci sai ci metterai sei ore no però sto facendo una missione di natale di shadow world bastardo è bella è abbastanza dai divertente vuoi tornare su vuoi restare qui cosa ti riporto fammi tornare vabbè eh pack world culetto non vuole non vuole pezzo di merda partecipa connessione alla lobby bravo grazie hai aumentato i posti gatto certo vedi che ci sono eh perché perché manno adesso è stellato sto gioinando il cosone e adesso mi prendo io mi sa che aspetta che abbasso un attimo il volume finipi da qualcosa perché ho già l'impressione che mi spaccherà le orecchie ok ci sono pronto ah posso sentire il personaggio giudicare gli spettatori che questo gioco non fichi no ma no è semplicemente oggi che ci può caccia niente che da noi e siamo anche il 23 dicembre è normalissimo è anche venerdì siamo edgar quanto cosa significa il simbolino sul mio nome robin moro è in otto dovete mettere pronto ah scusate c'è un caricamento e ancora stavi aspettando eh sì che ci rientra aspetta un altro po' alla cretino però non perché mi hai scritto pensa a te beh madonna te l'ho scritto una vita fa e non stavo partendo che penso allora va bene siamo tutti pronti fanno togliere il pronto ci voleva proprio tuo stream sono tremendamente annoiato grazie a dio ci sei ma sono qui apposta però manue moro non sono più pronti come mai perché non c'è un uomo decente e vabbè ma tanto finché non dico parti io non partiamo ho preso Enzo gli acchetti anche se hai baffi a manu anche la robia adesso c'ha il logo non so neanche il nome però che vuol dire vabbè chi se frega l'importante è che parta sono bella tu sei bellissimo premimi via dai arross 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 anzi no blu come si gioca corri corro mi nascondo adesso c'è un fantasma che deve trovare la gente gli devi cliccare addosso ok che se sono il fantasma devo cliccare addosso la gente se fichi se ficca a quistina allora noi glielo ficchiamo a quistina sono contento dai così proprio quindi diventa una gangbangs ho rotto la balla dove non c'era mai il cazzone io però sono io per la prima volta finalmente ne prendo uno non ho uno meno prendo questo qui che non si è mai visto ma qual è quella di trovare dieci cose ok no no è la classica come la classica come no si volevate quelle delle dieci cose avete preferito ecco forse meglio dieci cose che sono trombe in modalità ok not è nuovo magari adesso lo infari intanto dura poco sono libero e sono fantasma ma c'è già uno qua ciao Robby fantasmagorico eeeh ciao no no bastardo bastardo vedi qui e che hai inseguito là sotto non riesco a uscire aspetta qui ci margine è inutile è inutile è inutile è tutto inutile si vede poi si vede tantissimo orca troia io seguo gatto messa via maiale di soul qui si pranza quindi lo so che non eri tu vai no ho depistatolo no no non mi hai depistato ti ho visto che ti sei clonato ho ucciso Manu io come ci si clona? eh no con la R metti un campo di forza non è vero a me non mi clona oh ho trovato un passaggio segreto coglione coglione non c'è perché non va moro? non sono io come non sei tu? era un clone eh eh bastardo ma anche accucciati che bello ma qua c'è un tombino questo è magia senti quanti passi che sento anch'io paura ma non mi stai aiutando forse sono cresciuto io perché ne vedo tutti fermi nella telecamera ne vedo due fermi io sono fermo io ho messo un clone in giro no ne vedo due che fanno la break and dance cosa? sì anch'io io ho messo un clone in giro quindi magari qua aiuto? e guarda sono qui i mostri li vedo io ma sono scomparci adesso magia dai non trovo nessuno grande di quella che pensassi stamattina ma sì infatti questo qui era lag che palle ma non venire qui ci sono già io ma guardate questo aiaaa merda non è qui vicino hai notte adesso mi deve aiutare col destro li senti eh cazzo ti aprò lo stesso li sento sto correndo col destro li identifichi col sinistro li le magni abbiamo 13 secondi abbiamo perso che palle non tu che fai il moonwolf ho vinto vieni qui strano signore ho vinto anche io no come mi ho fatto come ho fatto a scapparci dai 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 desert di merda desert di merda è zero finisci il tempo e c'è ancora una cosa eccola Roberta non è vero piglialo piglialo è caduta sotto la mappa è caduta sotto la mappa è caduta sotto la mappa ma che è questo piglialo non finisce non la facciamo no è caduta sotto la mappa ah dove finisce ah no ho vinto io eh cosa vuol dire ah perché ne può vincere solo uno una volta scaduto il tempo ne rimane solo uno si si e moro è da solo e infatti adesso adesso vedi che il tempo è rosso è da sotto il ghezzaro ha vinto no non è finita no non è finita non è finita ma a me mi ci sento in gioco mi sa premi la c si premi la c noia e quindi quindi dovevano morire tutti eh non ho capito mi ha vinto mi sa che si era bugato il coso era meglio morire da piccola abbiamo vinto io ma tu nel tempo era finito no no fanculo fanculo tu ciao cichibe ancora io sono ma che brutto che sei ciao cichibe grazie ah ho capito brava 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 ma è caduto un lampadario no ora è salito guarda ah no stavo scendendo io sei bloccato cosa stai facendo tu faccio scendere e salire un lampadario ma sei un mago si ci sono dei meccanismi forse puoi salire sul lampadario aspetta è l'uvertai come overwatch eh si puoi salire capito posso fare anche questo pizza hi uvertai mmm 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 no bastardo bastardo vabbè mangio questo allora no no allora mi sono incastrato ti si vede tantissimo lo so merda che è che è che è che è che pare ho lasciato due manichini vicini tu coglione ma i manichini cosa fanno eh confondono c'è un umano invece no porca puttana l'ho gabbato l'ho gabbato ciao l'ho gabbato no ho preso proprio il clown eh sì ti sei caccato in otto cosa fare paura fa paura ma cosa cambia dagli altri fa paura anche gli altri non è che ma e là qui ne hanno lasciato due signorine è colpa mia li ho caccate via quindi la roba adesso non ha più difese e non potevo uscire da lì fa un culo e non potevo uscire era un atleta un umano ma moro sei ancora vivo no sono lo spettro adesso e dice che un umano è nelle vicinanze eh ma potrebbe essere un altro è qua è qua l'ho visto eh eccolo ahia merda sto guardando l'altra parte sono contento che vi piace questo giochino l'hai preso ti ho visto pigliate la roba pigliate la roba bastarda guardala la sbudella sbudella la sbudella la sbudella la sbudella la sbudella la sbudella si si ma non clic la gangbang è stata ah beh ci manca solamente chi eh 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 non lo vedo da nessuna parte ma è di là vieni come chiamo come ti dà è laggiù ma potete vederli? eh si vediamo ogni tanto la traccia vado se è là ciao com'è possibile? com'è possibile? me? me? vai 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 prendilo aiuto che si sta facendo quello lì? aiuto lo placco da di qua io no l'ho preso bravo lizzer l'hai mandato a fare in culo l'hai mandato vincitore in assoluto si balla che bello siamo in porno con questi mugolii volete mettere quello dei dieci cosi? dei dieci migliori? comandamenti va bene metallamenti eh no ce n'è ancora un'altra e io suonio ancora questo e io suonio ancora questo metallamenti chi è il tizio? oh io bastardo prendo la tipa con le tette liquide che schifono non mi trovare allora anch'io voglio essere un sto parlando in game? no no ok ah no è partita adesso la partita va bene paura figlia perché mettono sempre le canzoni ogni 30? mi hanno paura in culo tan 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 ah perché poi la roba dello squalo fammi capire avete paura per l'attenzione donna santa t'ho visto di sghiccio qualcuno che? di sghiccio? di sghiccio? di sghiccio ma quindi voi dite che è meglio stare fermi in un punto o continuare a muoversi? secondo me muoversi no secondo me stare fermi in un punto però è alternante ma non eri fk eri? si pensavo di far finta di essere i manichini stavo per lasciare stare mi stavo eh? stavo per lasciare stare ma quando ti avvicini compare il moma c'erano di fare la fine dei manichini uuuu ezzar abbiamo vinto no gatto non è una merda dove sei andato? no no tacci ma la meglio se stiamo distanti che spaventica mamma mia ma no ma no sono rimasto solo io sono rimasto solo io dov'è il maledetto aiuto aiuto è sopra ragazzi non è vero vai la dov'è? no c'è chi beh è a sinistra è sotto è spostato sto stronzo non è vero che mi sono spostato sto baffando in bicicletta è sotto è sotto ragazzi sta correndo dove? verso dove? nella libreria vicino alla libreria lo vedo eccolo non posso correre stronzi 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 Robby dove hai preso me? R nooo mamma mia più comunque c'ha le passive tipo la mia la vecchia e quando è invisibile il 20% più veloce si si mamma mia star wars io mi cago in fare ste roba mi cago tutto sono tutto cagato poi adesso dobbiamo trovare i 10 orologi e cambiamo anche la però non posso premere ah ecco si boh dovete essere pronti più di così ah no e not mano Robby pronto pronti no ma Robby no ah beh non esce il nome della Robby vabbè intanto sappiamo che lei ahhh porca troia dai voglio fare il fantasma e invece e invece io voglio provare il fantasma chi è il fantasma? chi è il fantasma? chi è il fantasma? ma ancora questo ah è bello però muoverti eh ma quando lo fate io non lo sono che cosa? quanto è questa cosa? eh io sono sempre il mostro e tu sei sempre stata il mostro fin adesso eh non ho tornato no ma la vedo male che tra l'altro è quello base perché sei distratta e quindi prendi sempre Michael Jackson ma qui c'è un ragno mortissimo va bene che è la merda eh sì io mi sono cacato ho aperto una porta la guarda la guarda fa in culo fa in culo amor fa in culo mi ha aperto la porta così fa in culo ah ma tu non sei fantasma scusa ah no vieni con me allora dove sei? ma andato avanti io ah c'è vero che qui il fantasma è invisibile bisogna usare il cellulare eh io non lo sapevo mi sono cacato hai ragione ma mi dite le cose bisognava usare il cellulare eh grazie gli zatti stavo chiamato perché son vecchio perchè non le so vede le morti ah ma che siamo caduti giù ditemi che era la Roby l'ho trovato si è la Roby ma noi non possiamo prendere gli altri ma noi non possiamo prendere gli altri ma noi non possiamo prendere gli altri no no tu sei il mostro che si è spaventata che non pensi due eri tu coglione ma noi cosa facciamo adesso che siamo morti ma come eri tu è solo guardare sei tu che hai urlato così ma no era la Roby che hai urlato così ma no era la Roby che hai urlato così no no è di tu un fantasma cretino appunto ah che ma dai tutto io lo sto trovando e invece e invece l'ho trovato i cinque di fine l'ho trovato anch'io no no ora ti chiudo in faccia a tutte le porte perché mai dobbiamo trovare eh no io faccio parte dei buoni no noi siamo cattivi siamo cattivi siamo cattivi? allora ok allora aiuto la cechibe che è qui è qui sento l'orologio è qui l'ho preso ma ne mancano poi è qua qua gatti chichibe dove dove? a destra vai era di qua e poi è sulla destra l'ho perso l'ho perso dove sei? ora PUTA oh tutti io li ho uccisi e noi non possiamo perchè? e noi non possiamo e voi cosa siete? spettri che spostano gli oggetti spettri che spostano gli oggetti spostami questo no possiamo tipo aprire porte spostare scatole ah mi chiudevi la porta per cretini ah si che paura però che ho preso no mi spiace chi è da su? questa volta mi canto anch'io tanto 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 mamma mia ma dove? com'è possibile? da solo e anche io ci sono finito si è caduto da solo e ce l'ho trovato eccolo qua eccolo qua eccolo e vai ho vinto io in gioco no chi manca? ho vinto si si ho vinto mi ha un palle fate cagare e voi non mi dite che non la vedevo io apro una porta c'è nulla davanti poi sono morto no capito? è stato bello comunque è stato bello è stato bello? si vabbè diavolo non chiedo il rimborsa no forzatamente hai già dato tanto per 3 euro ah si quasi 4 il tuo cuore sta risentendo di tutti gli sti spaventi puttana se si mamma mia va bene ragazzuoli allora io non posso fare altro che ringraziarvi per aver guardato questa live per le donazioni e le subs e le resub naturalmente vi auguro un buon Natale non escludo il fatto che ci si possa vedere nei prossimi giorni solo che domani devo registrare obbligatoriamente Skyrim volevo registrare GTA oggi con Karim purtroppo Steam è stato giù tutto il tempo per manutenzione ho letto e quindi no era una manutenzione quella ho letto manutenzione era un attacco hacker quello che era non vai così a caso no infatti non hanno avvisato ne un cazzo quindi non abbiamo registrato quello domani registrò una puntata speciale natalizia di Skyrim per tutti gli appassionati del genere comunque le live recupereranno facciamo per il 26 27 adesso vediamo non non so comunque non escludo che magari anche 24 25 si possa fare qualcosa tanto saremmo io e voi e tre di voi e basta quindi grazie mille a tutti e buona serata grazie anche i termosi fuori nella cichibe naturalmente sì Karim no lui fa schifo diteglielo va bene glielo diremo grazie grazie